Salve a tutti chi qui francio, bentornati in un nuovissimo video di minecraft questa volta non siamo nessun minecraft extra, nella serie siamo sulle bedwars ragazzi ci è voluto un bel po' per trovare una partita perchè questo server non è il massimo comunque prima di iniziare vi invito a dare un'occhiata alla descrizione per recuperarvi tutti i video che magari vi siete persi niente ragazzi fatemi buona fortuna perchè appunto vedete gli scorsi video delle bedwars e notate che io non sono una cima nelle bedwars dobbiamo ancora migliorare tanto però sto capendo un po' il meccanismo sto capendo che devo giocare un po' più aggressivo e niente ragazzi sta per iniziare la partita vediamo un po' allora intanto ci dobbiamo prendere un bel po' di risorse perchè si sta prendendo tutto lui vediamo un attimino allora intanto spada di pietra ok ci serve dei blocchi ma non abbiamo ferro quindi vediamo se va lui a coprire il letto si ok fa una bella copertura mi sa allora ci prendiamo uno stack di lana no non ci arriviamo nemmeno a uno stack di lana perfetto va bene e no non copre il letto lui ok lui va direttamente per i cavoli suoi perfetto quindi dovrò giocare un po' più in difesa mi sa eh questa volta perchè lo vedo uno abbastanza che se ne frega di un po' tutto quindi vabbè giocherò abbastanza in difesa ok ci proteggiamo il letto il più possibile vediamo se allora controlliamo la situazione il verde sta andando totalmente da un'altra parte quindi in realtà va bene allora ci prendiamo l'arco ok eccolo qua eccolo qui vediamo se riusciamo a buttarlo giù o ad ucciderlo no ci ha ucciso lui ok vediamo se riusciamo a respawnare si ok prima che lui ci il mio letto è stato distrutto così è stato distrutto così beh ragazzi a questo punto io direi di di andare proprio tanto allora è stato più che altro un errore suo perchè se ne è veramente è completamente fregato quindi vabbè dobbiamo dobbiamo prenderne atto vediamo se appunto abbiamo questa cosa qui allora ci facciamo un attimo inseguire no vabbè vabbè è stata una partita veramente bruttissima è stata una partita veramente veramente brutta e anche perchè questo qui veramente si è ha perso completamente la contezza della squadra ha perso la contezza del letto e quindi io da solo non sono stato in grado di gestire il tutto anche perchè si chiamano doubles apposta bisogna fare le cose in due non è che tu te ne freghi e poi lasci solo me a difendere il tutto quindi niente ragazzi un pochettino ce lo siamo ce lo siamo meritati questa questa sconfitta a questo punto ragazzi ci sarà un taglio e ci rivediamo direttamente nella nella seconda partita di questo video che spero sia un po' più emozionante ragazzi quindi taglio ok ragazzi sta per iniziare una nuova partita perfetto quindi stiamo qui allora ci serve come start il mio start è spada in pietra almeno uno stack di lana vediamo se lui va a coprire il letto spero di si no non va a coprire il letto c'è questa cosa di lasciare il proprio letto scoperto che io sinceramente non capisco quindi uno stack di lana poi ovviamente non ho preso la spada in pietra mi sono dimenticato tantissimo della spada in pietra eccola qua perfetto e andiamo a coprire il nostro letto ok per me ragazzi è una cosa fondamentale poi magari sto sto sbagliando se faccio qualche errore ragazzi ovviamente non esitate a commentare questo ah no ok ok il nostro compagno il nostro compagno ok ancora con i colori raga non è che sono dal tonico però allora il rosa dove sono ragazzi dove sono vabbè noi intanto ci facciamo la nostra partita perfetto allora ha fregato lui un bel po' di risorse però raga ci prendiamo vediamo se esce ok ci prendiamo intanto l'arco ok che comunque è una cosa importante da avere l'arco perfetto e come copertura ragazzi ne aggiungerei un'altra qui ok e un'altra qui raga ok questo rumore non so cosa sia stato però ovviamente ci dobbiamo prendere anche delle delle frecce quindi andiamo qui e ci prendiamo le frecce 24 frecce secondo me è anche carina come cosa allora andiamo qui un attimino tanto potevamo prenderci altra lana effettivamente effettivamente si poteva prendere altra lana allora andiamo qui comunque sfruttiamo tutto quello che ha fatto il nostro compagno qui ancora deve spawnare aspettiamo questi 14 secondi che spawni e prepariamoci comunque ad affrontare un altro il ok l'azzurrino l'azzurrino come lo chiamo io soltanto che ha l'elytra l'elytra potrebbe essere un problema però vediamo 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 ok si fa una copertura vediamo 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 se riusciamo a beccarlo no ragazzi non siamo riusciti a beccarlo quindi vediamo ha soltanto oddio ha soltanto come letto distrutto ma quando ma quando è stato distrutto il mio letto game over così eh vabbè 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 ha vinto appunto il team acqua non era il team azzurrino era il team acqua vabbè ragazzi a questo punto io direi ci facciamo un'altra partita e e poi e poi basta cioè nel senso io ho già fatto un video delle bedwars dove lo chiamo tre partite terribili qua mi sa che è tre partite terribili pt2 mi sa che sarà proprio questo il titolo del del video niente ragazzi io comunque mi impegno ma vedete che la strategia dei dei miei compagni di quelli che sto trovando attualmente è molto molto aggressiva cioè non proprio se ne fregano del letto quindi ovviamente quando io provo a essere un po' più aggressivo in base non c'è nessuno a difendere quindi in realtà vediamo se ne trovo un altro che proprio va diretto verso i diamanti o verso gli smeraldi ragazzi io in questa partita proverò a essere un pochino un po' più difensivo quindi a difendere un po' la la base e niente poi ovviamente trovo come avversari persone che sono molto più più forti di me nelle bedwars e quindi questa cosa sono da solo? come sono da solo raga? come sono da solo? no vabbè dai quindi mi posso mai trovare da solo? vabbè questo server non è il massimo se avete dei server ragazzi da consigliarmi vi prego consigliatemi dei server perché perché no perché no così no eh così non si fa devo proteggere il mio letto da solo devo fare tutto da solo in pratica sto giocando una una singola e vabbè e vabbè ragazzi vabbè tanto poi ho un colore veramente che si mimetizza perfettamente con tutta la mappa eh cioè verde fluo bellissimo bellissimo e già questi stanno venendo a rompermi non va bene questa cosa ok ok tanto lui non si è accorto che va bene loro vorranno sicuramente uccidermi malissimo perfetto non so se in quattro secondi non so se in quattro secondi oh sono respawnato perfetto vediamo se riesco no quindi il mio letto sarà distrutto malamente aspettiamo un attimo ah ok ok perfetto è già è già distrutto il mio letto ok perfetto è bruttissimo ragazzi bruttissimo non mi aspettavo di trovarmi da solo in questa partita è stato veramente ehm brutto quindi questo server ripeto non è il massimo se avete il server da consigliarmi ragazzi consigliatemi qui sotto in ogni caso questo video lo tengo ragazzi perché per me è importante che vi diate anche i miei ehm insuccessi nei giochi e non solo i i successi le partite perfette le partite belle perché sennò ragazzi non avrebbe senso quindi ragazzi vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video se mi sono se vi sono piaciute le mie morti più che altro mi raccomando date un'occhiata alla descrizione iscrivetevi al canale così da non perdervi nessun nuovo video di francio e niente ragazzi io spero spero di migliorare nelle badwars poi poi non si sa questo video sarà un po' più cortino del solido però dai spero spero comunque vi piaccia vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo un prossimo video ciao ciao